ben tornati o benvenuti a next generation oggi affrontiamo il talk che già sarebbe senza psicologica e safety con gianni bossini ciao gianni ciao ciao a tutti ecco per chi si collega adesso probabilmente si accorgerà che c'è un altro titolo purtroppo abbiamo dovuto cambiare in corsa l'argomento però non preoccupatevi è sempre un super talk con gianni aspetta aspetta la fine diciamo le tematiche sono sempre comunque affini purtroppo il talk precedente non siamo riusciti a portare un termine perché appunto una persona è indisposta quindi abbiamo preferito cambiare argomento e comunque portarvi un argomento diciamo correlato mi presento sono marco mattiona perché non mi conoscesse sono il moderatore di next code generation e per chi fosse interessato da un mesetto ho anche avviato il mio blog personale dove parlo di innovazione della tecnologia e business quindi se siete diciamo incuriositi di queste tematiche ho lasciato il link nella chat che cos'è next code generation next code generation è un'iniziativa che nasce da un'idea di csmt e di suoi partner come università di brescia altars vision codice plastico for solid jackson gamme industries picco quadro talent garden top plus e training informatica è una community che punta a condividere il proprio sapere le proprie conoscenze sulle tematiche di sviluppo software e cerchiamo appunto di portare gli argomenti su cui noi ci sentiamo più confidenti più esperti le cose che trattiamo magari quotidianamente al fine di permettere di accrescere la conoscenza condivisa dare spunti reciproci e quindi aiutarci qualora servisse potete trovare i nostri riferimenti il sito next code generation punto it canale pagina instagram next code generation canale csmt gestione di youtube dove trovate tutti i talk precedenti e la pagina facebook next code generation che cos'è la nostra next code challenge è una sfida di coding dove si può partecipare singolarmente o a squadre è possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione per risolvere la challenge della settimana del mese e vi destilate costantemente aggiornate una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2021 quindi il prossimo incontro questa quindi l'ultima opportunità che avete per risolvere la challenge e il prossimo incontro dichiareremo chi sono i vincitori i punteggi vengono attribuiti un punto per ogni soluzione corretta tre punti per il classifica seconda terzo posto e cinque punti per la soluzione migliore la votazione si basa su correttezza risultato efficienza algoritmo stile programmazione originalità della soluzione e la presenza di commenti anche quest'anno chi vince si attribuirà un anno di ammolamento a plural site che per chi non lo conoscesse è un ottimo sito per fare formazione in ambito sviluppo software questa era la challenge numero 4 che vi avevamo già presentato non c'è stato ancora una volta nessun vincitore quindi la challenge rimane attiva la classifica quindi è immutata e vi presentiamo la challenge numero 5 una formica si trova sulla griglia di caselle colorate di bianco o nero la griglia a dimensioni infinite la formica è sempre orientata in una delle direzioni cardinali sinistra destra su o giù e si muove da una casella alla successiva secondo le regole seguenti se si trova su una casella nera la cambia in bianca ruota di 90 gradi in senso antiorario e si muove in avanti di una casella se si trova su una casella bianca la cambia in nera ruota di 90 gradi in senso orario e si muove davanti di una casella inizia da una griglia completamente bianca quante caselle nere ci saranno dopo 10 alle 18 mosse dalla formica non c'è bisogno di prendere appunti perché il testo vi verrà inviato per email e lo troverete comunque anche sul sito come risolvere come partecipare alla challenge basta inviare una mail a challenge che ho su la nextcode generation.it nell'oggetto il nextcode challenge con il numero della challenge il nickname della squadra che partecipa se ci sono uno o più utenti che hanno partecipato il linguaggio scelto il risultato ovviamente come allegato obbligatorio il codice del programma che porta la soluzione se volete rimanere aggiornati aggiungite i rubrici al numero 371 168 89 30 mandate un messaggio whatsapp con scritto nextcode on e riceverete tutte le news relative nextcode vi lascio il riferimento al prossimo talk software solution for remote health monitoring di stefano ghidini di adares vision sarà questo talk segnatevelo perché sarà un incontro dal vivo quindi 15 dicembre alle ore 18 in csmt e quindi poi ci sarà un piacevole rinfresco natalizio e quindi dopo tanto tempo ritorniamo a fare un incontro dal vivo e vi aspettiamo in tanti sempre incontrarci sempre fare poi l'aperitivo e direi io ho già detto tutto lascio la parola qui di azzarmi ok condivido il monitor se avete bisogno di qualche domanda scrivete pur in chat che poi le posso rivolgere io tanti visto che siamo comunque in pochi alla fine diciamo della della presentazione se sarebbe bello che diciamo si instaurasse appunto un po' un anche un confronto diciamo su base delle proprie esperienze su quello che viene detto in questa presentazione diciamo il numero lo consente quindi e il tema anche quindi cerchiamo di aprirci e confrontarci diciamo sul tema e allora io sono gianni bossini sono uno sviluppatore software presso codice plastico sono appassionato di sviluppo software di architetture e di metodologie agili e proprio questa mia passione per le metodologie agili mi ha portato a approfondire questo argomento poi vedremo come ci sono arrivato qual è stato il percorso curioso che mi ha portato ad approfondire l'argomento della psychological safe tra le mie passioni ci sono i viaggi normativa covid permettendo la passione per il brisciacalcio passo parecchio tempo o praticamente tutto il tempo libero con la mia famiglia nei pochi dettagli di tempo leggo libri tra cui quello che vi presenterò stasera e perché ho deciso di condividere questo argomento anesco generation perché leggendo sul sul sito nella pagina col for speaker di del sito next generation mi hanno colpito queste parole diciamo una serie di talk dedicati al mondo del software con l'obiettivo di confrontarsi condividere fare brainstorming trasmettere conoscenza ed esperienza non sono il massimo esperto di psychological safety a livello italiano nemmeno regionale nel livello provinciale probabilmente ma neanche a livello del mio paese c'è sicuramente della gente che ne sa molto più di me però mi è veramente appassionato tantissimo l'argomento tanto che ho voluto condividerlo alla jail day all'unconference e anche stasera con voi appunto per condividerlo ma anche raccogliere da voi feedback e obiezioni a quello diciamo che andrò a dire il tema è un tema piuttosto spinoso perché quello che vi dirò stasera vi chiedo la cortesia di non provarlo diciamo così come ve lo dico direttamente da domani tra virgolette in produzione perché non stiamo facendo un docker file provando a tirare su il database è legato a delle piai che se non va bene qualcosa vabbè ok una volta che abbiamo il backup del database il 90 per cento del della nostra safety è apposto a parte psicologica la vedremo e qui purtroppo abbiamo a che fare con le persone e naturalmente quando si parla di persone si parla di interazioni di dovute cauteli e quindi applicare diciamo da domani in produzione quello che stiamo dicendo quello che diremo stasera rischiamo di fare più danni che non che non trarre benefici quindi attenzione introduciamo iniziamo a misurare queste cose col tempo e iniziamo a fare noi un po da da scintilla per innescare diciamo queste queste pratiche durante tutto questo talk siete autorizzati a utilizzare a pensare più che altro frasi come le riarmarconi che per chi non è di brescia significa è arrivato a illuminare a delucidarmi su delle pratiche che è ovvio che funzioni così e anche bla 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 è tutta fuffa perché effettivamente è tutta fuffa però è quella fuffa che se poi manca succedono i disastri quindi siete autorizzati a dirlo però ascoltate sempre quello che vi voglio dire con una certa concetto senso critico per capire se in passato se adesso se voi stessi qualche cosa di quello che dico lo state sperimentando o lo avete sperimentato nessuno di noi ha dubbi sul fatto che i vantaggi delle serie agili siano tantissimi se partiamo dal manifesto essere agili mette veramente al oltre diciamo a dar a aver diciamo consentito la nascita di diverse metodologie tutto un pensiero ha messo veramente al centro di tutto le persone e dal mio punto di vista applicare una metodologia agile per sentirsi agili rischia sostanzialmente di portarci ad applicare un processo che se però non ha quel qualcosa diciamo di magico per per veramente fare scatenare diciamo la vera magia che sta dietro l'agile e si rischia veramente di applicare un qualcosa che sicuramente meglio di un flusso waterfall ma che comunque è una mera applicazione di step che ci permette di andare avanti in modo iterativo per rilasciare qualcosa ma comunque non trarremo veramente il vero valore quindi quello che cercheremo di capire stasera è cos'è questo qualcosa di magico vi dicevo prima che questa mia ricerca diciamo nasce da prende prende il via da due eventi particolari il primo è il sessantesimo anniversario delle frecce tricolore che si è tenuto a 7 all'inizio settembre se non ricordo male e guardando diciamo questa serata questa giornata ricca di evoluzioni di veramente spettacolo al termine il capitano ha detto che la pattuglia di oggi è migliore di quella di ieri ma è certamente peggiore di quella di domani e a me da agilista questa cosa ha fatto subito balzare il il campanello d'allarma caspita un processo così di miglioramento continuo che diciamo si si è in essere da anni non è banale anche perché credo che la pattuglia precedente sarà ben disposta a dire tutti i successi che ha ottenuto ma dire magari tutti gli successi che ha sperimentato quindi quei quegli successi che porteranno poi la pattuglia successiva o la pattuglia corrente ad essere migliore eh sono difficili a volte da ammettere e quindi questo processo di continuous learning ehm mi sono proprio chiesto come può una pattuglia acrobatica eh continuare diciamo come può anche un'azienda come può un team continuare a crescere sempre eh a migliorare sempre e l'altro fatto diciamo che mi ha fatto pensare è stato prende spunto dal cartone animato a Bugs Life un cartone degli anni 90 nel quale c'è questa formichina blu che si chiama Flick che è un po' il creativo del del formicaio e lui veramente ha un sacco di idee per raccogliere i semi costruisce dei macchinari eh che praticamente si prendono il seme poi lo buttano sul mucchio dei semi quindi veramente è un qualcosa di molto molto creativo e purtroppo come tutti i creativi eh a volte sbagliano perché eh magari la la creatività eh non è sempre eh guidata da da quella razionalità che porta poi a costruire qualcosa che effettivamente funzioni a livello di leggi della fisica e spesso il formicaio eh segnala sostanzialmente eh punta al dito contro Flick per tutti gli errori che fa il formicaio è minacciato da eh un esercito di cavallette che vogliono rubare il raccolto e lo faranno quando l'ultima foglia dell'albero che domina il formicaio cadrà Flick si allontana dal formicaio e eh durante il suo peregrinare incontra degli artisti di circo che sono vessati dal proprio direttore del circo e che vorrebbero sostanzialmente andarsene perché diciamo che se in un team poi non ci si sente liberi di esprimersi insomma se le condizioni non sono quelle ideali poi magari si ha voglia anche di di cambiare aria e questo è proprio quello che fanno eh questi artisti di circo eh con Flick eh Flick si apre con queste con questi nuovi amici e esprime il proprio problema che è proprio quello di creare trovare una soluzione per evitare che le cavallette vengano a rubare il raccolto e con questi artisti eh pensano a un piano mh di costruire un uccello fatto con ramoscelli e foglie per appunto spaventare le cavallette quando verranno per prendere il raccolto e farle scappare per sempre. Naturalmente se Flick avesse presentato questo piano al formicaio lo avrebbero certamente deriso e non l'avrebbero preso in considerazione. E quindi Flick cosa dice? Dice tornando al formicaio che i suoi nuovi amici sono degli degli esperti militari, degli esperti di strategia militare e quindi mente per avvalorare la sua tesi, il suo piano e il formicaio ci crede. Sarà capitato anche noi di dire potremmo fare questa cosa così e nessuno ci ascolta. Poi arriva come dicevo mio ex collega eh l'uomo dello stipendio di Giada e magicamente l'uomo dello stipendio di Giada dice le mie stesse parole e tutti dicono caspita sì veramente l'uomo dello stipendio di Giada ha ragione. E quindi questo succede anche a Flick dicendo che il suo piano è stato pensato dagli strateghi militari il formicaio crede al suo piano. Poi il cartone va avanti comunque con questo piano il piano fallirà in un certo senso ma comunque grazie a Flick e a questi nuovi amici riusciranno comunque a respingere l'attacco delle formiche. E quindi quello che mi ha fatto eh pensare è perché ci sono dei team e cosa consente a un team di continuare a imparare e di continuare a crescere e perché nei team c'è bisogno a volte di mentire per far passare eh le proprie idee. Quindi ho iniziato una ricerca personale su questi temi che mi ha portato a leggere questo libro The Fearless Organization della dottoressa Amy Edmondson che è proprio con lei che ha teorizzato questo aspetto della eh psychological safety. Parto da i casi in cui manca la psychological safety per far capire subito eh quali sono i problemi che possono nascere in un ambiente in cui c'è la mancanza di questa eh questo componente. Cercherò di non fare nomi eh spero poi durante sicuramente eh la discussione mi scapperanno fuori i marchi e spero che nessuno mi denuncerà e non mi porteranno alla sbarro. Eh il primo caso è il dieselgate eh nel quale eh questa nota casa automobilistica per vendere i propri veicoli e quindi e conquistare il mercato ehm californiano decide di mentire sulle emissioni. In che modo? Eh il veicolo quando era sottoposto alla misurazione delle delle emissioni si comportava in un modo nettamente diverso rispetto a quando il veicolo era eh in in utilizzo su strada. Questo perché eh l'azienda ha dovuto mentire perché gli ingegneri dicevano eh quei livelli di emissioni sono sostanzialmente irraggiungibili per noi non riusciremo mai a produrre un motore che inquina così poco. E quindi l'unico modo è stato quello per conquistare il mercato è stato quello di mentire. Il problema è che poi quando l'autorità americana si è accorto diciamo eh di questo comportamento eh questo fatto ha avuto pesante ripercussioni sulle immagini dell'azienda ma anche sulle persone sulle persone coinvolte, sui manager coinvolti alcuni di quali sono finiti in prigione. Un altro caso in cui si è mentito per rispettare delle scadenze è stato il caso di un noto produttore di aeroplani ehm che per diciamo appunto rispettare determinate scadenze ha deciso di modificare il software che gestiva il pilota automatico degli aerei disattivando determinati sensori e eh questi sensori diciamo hanno provocato questa mancanza di determinati sensori e quindi la manimissione del software ha provocato diversi disastri a me diversi disastri aerei e quindi anche la morte di diverse eh centinaia di persone. Anche in questo caso eh gli ingegneri hanno naturalmente fatto notare eh il problema che il problema che si sarebbe verificato ma naturalmente l'obiettivo era quello di rispettare la scadenza e quindi tutto quello che veniva detto non veniva assolutamente eh preso in considerazione nessuno veniva ascoltato. Un caso di mancato ascolto diciamo di problemi di comunicazione si è verificato anche ehm al lancio del Columbia eh un ingegnere si accorse sette giorni prima del decollo che il rivestimento esterno del veivolo era manomesso era scusate era compromesso e segnalò ai colleghi questa questo problema e i colleghi però dissero che non era assolutamente un problema che le pratiche di controllo venivano fatte sostanzialmente lo zittirono e sicuramente questo ingegnere non avrà più detto caspita però visto che il silicone del finestrino è leggermente invecchiato perché naturalmente una volta che ti sgridano per quello che dici la seconda volta non ti prende in considerazione magari la terza ti fai i capoli tuoi. Il problema è che poi a rientro nell'atmosfera il Columbia si incendiò e provocò la morte di sette persone. Altro caso particolare di mancato ascolto e mancata di mancata anche innovazione fu il caso della Nokia quando ci fu il boom dei Apple con il sistema iOS e del sistema operativo Android Nokia nonostante gli ingegneri dissero per più tempo al management attenzione che questo è un percorso a seguire investiamo del tempo nella ricerca il manager decise di proseguire col proprio sistema operativo. Nokia era una leader sicuramente nella telefonia lo è ancora oggi sicuramente ma non è sicuramente leader nel settore degli smartphone e infatti determinate scelte aziendali portarono diciamo Nokia ad uscire da un grosso segmento di mercato. Se diciamo in questi scenari sono scenari che ho letto e vi porto ma sicuramente non ho la presunzione di dare indicazioni su come migliorare il caso se non trarre quali sono le problematiche che stanno alla base. Casi invece più reali e più vicini a noi possono essere quello del collega che tutte le notti sta in piedi a risolvere i problemi e quando arriviamo la mattina i problemi sono tutti magicamente risolti che per un certo punto di vista può essere anche una bella cosa perché arrivo la mattina accendo il mio computer tutto funziona perfetto però diventa brutto quando si dice potremmo fare questa cosa per migliorare il sistema e c'è sempre qualcuno che dice fatto 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 che è fatto una volta fatto due fatto tre magari poi la terza volta non propongo più niente perché comunque c'è sempre qualcuno che lo fa al mio posto quindi fai te anche la prossima volta oppure il problema della routine il problema di rispondere a nuove idee a delle proposte di cambiamento con sì ma noi abbiamo sempre fatto così questa è una frase che interrompe il dialogo perché praticamente spezza proprio la catena della creatività la catena del pensiero laterale quindi capita spesso magari quando si cambia lavoro di portare la propria esperienza nella nuova azienda e perché magari certe cose si sono già vissute e spesso viene appunto risposto sì ma abbiamo sempre fatto così e quindi diciamo il dialogo si interrompe quindi questi questi sintomi quindi il dover mentire per conquistare mercati per rispettare delle scadenze perché siamo convinti che la nostra soluzione sia la migliore quindi non ascolto non valuto soluzioni esterne perché abbiamo già delle procedure che ci dicono no siamo tranquilli non succederà mai che il columbia si incendi perché abbiamo già verificato in sette step che l'investimento esterno è a posto piuttosto che il fatto che c'è sempre qualcuno che risolve tutto o che qualcuno che dice le cose funzionano così sono sintomi di questa mancanza proprio di psicologica al sé i problemi che emergono sono i seguenti un'organizzazione gerarchica l'organizzazione gerarchica serve soprattutto in contesti enterprise non voglio dire che i job title non servono dipende se l'organizzazione gerarchica esercita un controllo di tipo top down quindi io dico cosa devi fare e tu devi farlo l'organizzazione gerarchica esplode il problema dell'organizzazione gerarchica esplode se è addirittura se si mette sull'organizzazione gerarchica anche il carico delle ricomperse dei primi personali legati a team o persone singole dare obiettivi di team magari che vanno magari anche nella stessa direzione ma secondo due percorsi diversi porta poi ciascun team a fare le proprie scelte non scelte corali a livello aziendale ma delle scelte che portano poi a dire ok aspetta un attimo però io prima ottengo quello che devo fare per il mio obiettivo poi penserò anche al al tour soprattutto se poi questi obiettivi non sono neanche condivisi la paura di parlare per due motivi il primo è personale cioè c'è la convinzione che nessuno è mai stato licenziato per il proprio silenzio ed è vero se io sto zitto nessuno potrà mai licenziarmi ok domani faccio tutto in produzione io venire accorto è però non dico niente faccio tutto in produzione bene solveremo il problema se l'avessi detto magari il giorno prima avessi detto è però guarda che c'è questo componente che è critico magari se hai di fronte alla persona sbagliata ti dice sì ma sei sempre quello che dice che le cose vanno male menagramo e poi tutto effettivamente va giù il giorno dopo però se l'avessimo detto magari ci saremmo anche accorti e il fatto di non dire le cose porta poi a un ambiente nel quale sembra che tutto vada bene perché nessuno dice mai niente e tutto va sempre bene il team leader di arte come sono contenti i miei colleghi in realtà magari se semplicemente silenziosi perché non si ha l'opportunità di dire determinate cose non si ha il coraggio abbiamo visto prima mentire per raggiungere obiettivi scadenze piuttosto che obiettivi di mercato oppure problemi che sono la scarsa fiducia la scarsa capacità di ascolto la scarsa creare un clima dove c'è una scarsa comunicazione oppure la paura del cambiamento quindi sono attanagliato dalla paura del cambiamento quindi non dico niente non faccio niente così almeno siamo sicuri che le cose non cambiano e continueranno a funzionare bene come stanno funzionando oggi che problemi nascono da questi questi casi problemi di non innovare problemi di non riuscire a trattenere i dipendenti più brillanti rischio di fallire importanti traguardi o di fare disastri come nel caso appunto abbiamo visto prima dei disastri aerei più o meno considerevoli seconda del nostro dominio di applicazione quindi se vogliamo scrivere una user story che va a mappare quello che stiamo quello che abbiamo detto fino adesso è come un team agile io non voglio noi non vogliamo tutto quello che abbiamo visto nella slide precedente in modo tale da poter lavorare meglio ma essendo una user story noi non vogliamo utilizzare una negazione vogliamo porla in positivo quindi guardiamo adesso abbiamo visto cos'è cosa non è la psicologica se vediamo cosa è la psicologica se la psicologica se ti è un environment è definito come un environment quale le persone credono che il candore sia il benvenuto cosa vuol dire che vuol dire vuol dire trasparenza schiettezza apertura condivisione dialogo le persone immerse in un ambiente psicologica al safety pensano che credono fermamente che tutto quello che dicono domande far notare errori ammettere errori sparare idee impossibili sia comunque una cosa benvenuta certo non è che tutti i meeting dobbiamo sparare l'idea impossibile perché sennò diciamo che si perde anche un po di credibilità ci vuole misura però se ci sentiamo in quel momento lì di dire una cosa pazza perché l'abbiamo letta su un qualche articolo e funziona e ci crediamo che funzionerebbe poi magari non applicabile nostro scenario dobbiamo avere la possibilità in modo trasparente di poterlo dire e nessuno deve giudicarci per quello che diciamo la psicologica al safety è presente quando i colleghi hanno fiducia e si rispettano l'un l'altro e questo è la base ma credono veramente e addirittura sono obbligati a essere candidi e qua essere trasparenti essere schietti in un team psicologico al safety quando l'ambiente psicologico al safety è sicuro il rischio di prendere rischi senza che nessuno venga né punito né umiliato per quello che ha detto o ha fatto casi virtuosi di applicazione di virtual di psicologica psicologica al safety e sono il caso di pixar e il fatto di avere un sio che ammette di fare errori porterà anche a me che sono l'ultimo di quelli che spostano le lampade sul sul set a mettere di poter fare errori perché comunque se tutta la catena dal basso verso l'alto sostanzialmente in questo caso di organizzazione gerarchica può ammettere gli errori quindi quelli sopra di me mettono di fare gli errori anch'io sarò nelle condizioni di poterlo ammettere inoltre in pixar ed catmull ha pensato a questi meeting che si chiamano brain trusting nei quali chiunque può portare l'idea pazza che sia e viene sottoposta a un team in modo veramente informale mentre si pranza si discute di queste idee si capisce se questa idea può avere successo o meno questo per evitare proprio il fallimento ma senza portarti a dire devi fare questo cartone animato così 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 poi il cartone non ha successo dire eh l'hai fatto male tu hai un'idea la porti in questi brain trusting la si discute si capisce se può avere successo o no l'idea e in caso si va avanti per un'altra iterazione per capire se appunto man mano quest'idea si avvalora e sarà diciamo un prossimo filo di animazione di successo dell'azienda un altro caso particolare è il caso di Lynn Fisher uno noto e commerce americano operante nel settore della moda dove la CEO proprio Lynn Fisher ammette di essere una don't knower cioè di non sapere e anche in questo caso partecipare a un meeting dove so che il mio CEO ammette di non sapere è una cosa bella perché ci evita di dover sempre dir di sì anche quando le cose non le sappiamo e poi di dover andare in terrazza al freddo a cercare su wikipedia la risposta perché a questa cosa quando la sapevamo ma non vogliamo fare brutta figura google ha fatto uno studio chiamato project aristoteles in il codename era project aristoteles nome ufficiale rework nel quale proprio ha dimostrato con i numerelli che la la base affinché i team siano performanti è proprio la presenza di psicologica safety senza psicologica safety le performance dei team non saranno mai eccellsi è un caso che mi ha colpito particolarmente è quello di cinzia carroll la prima donna CEO di un'azienda multinazionale operante nel settore minerario un settore fortemente maschilista diciamo dove della forza fisica diciamo era un plus e quindi anche la capacità di resistere alla fatica e al dolore era sicuramente un plus rispetto a chi invece si lamentava cinzia carroll si accorse subito di un numero spropositato di morti nelle miniere e quindi si pose come obiettivo quello di ridurre o se o addirittura azzerare il numero di morti sul lavoro per fare questo inizialmente venne derisa venne venne dato credito alla sua proposta perché figuriamoci in un settore come industria mineraria non morire nelle miniere è quasi una un insulto e lei diciamo decise di portare avanti con convinzione questa sua pazza idea addirittura chiuse delle miniere e naturalmente inscenando poi subendo diciamo dei gravi contraccolpi sia a livello economico che a livello naturalmente di immagini ma da queste chiusure cercò di trarre gli insegnamenti che avrebbero portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e come lo fece certo non chiamando il super mega esperto di sicurezza sul lavoro dicendogli le mie miniere sono insicure sistemamele bensì cercando di far migliorare la sicurezza sul lavoro proprio da chi ci lavora le miniere cioè dai minatori e come fece li convocò stiamo parlando di un'azienda con migliaia e centinaia di migliaia di dipendenti li convocò addirittura in stadi e in questa sessione diciamo di brainstorming chiese ai lavoratori come potevano migliorare la propria sicurezza sul lavoro e i lavoratori non dissero niente c'è nessuno fece delle proposte perché perché comunque i lavoratori erano abituati a un ambiente top down nel quale tu mi dici come devo lavorare io lavoro tu mi dici che nelle miniere ci devono essere tre faretti ogni 20 metri e io lavoro tu sei responsabile della sicurezza non sono io che devo dirti come deve essere sicuro la miniere senza che erano si accorse che la domanda era sbagliata non doveva chiedere una soluzione ma doveva chiedere quali erano i problemi nelle miniere e quindi girando la domanda chiedendo ai minatori quali sono i problemi che ti trovi ogni giorno affronta a vivere i minatori si sentirono veramente importante quindi decisero di dare il loro contributo e dissero quali erano i problemi nacquero poi dei team che dovevano di minatori proprio che dovevano appunto dare delle proposte ma a questo punto il muro di omertà era rotto perché io ero già riuscito da tu avevo visto che tu mi stavi ascoltando quindi siccome tu mi stavi ascoltando adesso sono disposto anche farti la mia proposta ma quando prima io ti dicevo guarda che le miniere sono troppo buie e io dicevo sì ma siamo rispettiamo la norma iso 20.348 e vabbè allora il discorso si chiudeva lì cinzia carroll abbassò tantissimo il numero di morti non riuscì a zerarlo ma veramente lo dirò lo ridusse in modo significativo e fece poi un passo successivo che fu quello di coinvolgere sindacati industria mineraria e governi proprio per diffondere questa pratica per migliorare le condizioni di lavoro e un'altra cosa che mi ha colpito molto è che in durante delle sue consulenze le prime consulenze che emi ed monson faceva in ambito medico si accorse che i team i reparti di ospedalieri che funzionavano meglio erano proprio quelli nei quali c'era la missione dell'errore perché comunque il team di medici sapeva che facendo questa questo errore l'avrebbe fatto che la prossima volta e la volta ancora e quindi non si imparava mai quindi non c'era quel processo di continuous learning mentre i team i reparti nei quali i medici dicevano ho fatto questo errore e tutti imparavano da questo errore non continuavano a perpetrare gli errori di medico in medico quindi psicologico safety però non significa essere sempre simpatici piacevoli scherzosi essere sempre d'accordo significa essere schietti essere schietti può fare anche male perché se io ti dico hai sbagliato qui non sempre farsi dire che si è sbagliato è una cosa bella però in un ambiente psicologico safety è ammesso perché è visto come un processo di crescita di tutto il team non significa solo avere fiducia abbiamo visto che la fiducia è uno dei due componenti che stanno alla base della psicologica ma la psicologica safety è proprio avere questo clima di trasparenza e schiettezza e non vuol dire neanche che segnalare errori piuttosto che dire idee pazze abbassi le performance al contrario se noi prendiamo questa tabella nella quale sulle ricche abbiamo i bassi livelli di psicologica safety estremizzando un approccio command and control e l'alto livello psicologica safety è estremizziamolo tutti possono dire tutto in qualsiasi istante eccetera e sulle colonne abbiamo bassi standard quindi semplificando il rispettiamo le scadenze quindi low non le rispettiamo high le rispettiamo vediamo che quando la combinazione è low low abbiamo una zona di apatia tu mi dici cosa devi fare io lo faccio se lo faccio per la data giusta bene se lo faccio per la data se lo faccio due settimane dopo tanto i livelli di standard sono basse tiriamo a campare e via ma certamente non è un momento in cui si hanno delle buone performance per il team se la psicologica safety alta quindi tutti possiamo far notare possiamo crescere possiamo provare possiamo sperimentare eccetera e non c'è un controllo diciamo sulla scadenza e sulla qualità e diciamo che è il vivere professionalmente in un continuo contesto di site project quindi ogni microservizio lo faccio un linguaggio diverso ogni microservizio lo faccio con un'architettura diversa continua sperimentare 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 continua sbagliare anche le date di consegna ma beh ma non importa tanto ci diremo fra di noi si caspita mai questo linguaggio di programmazione che hai scelto non va bene perché ha rallentato le performance però tanto abbiamo imparato quindi siamo in una zona veramente tranquilla e agevole la obs psychological safety e al sun standard ci porti una zona di ansietà siamo command and control nel quale uno col mitra controlla la scadenza quindi abbiamo veramente un costante fiato sul collo che non è sicuramente dove vogliamo lavorare noi sviluppatori e high high entrambi sia la psychological safety che gli standard siamo in una zona di learning zone quindi abbiamo un obiettivo da raggiungere e questo obiettivo è fissato siamo motivati nel raggiungerlo ma se non ce la facciamo possiamo alzare la mano e sappiamo che qualcuno dei nostri colleghi del nostro team ci verrà in aiuto quindi la learning zone quindi high psychological safety e high standard è sicuramente il punto dove abbiamo le performance migliori e dove appunto avremo quel processo virtuoso di continuous learning e continuous improvement che è messo in campo proprio dalla nostra pattuglia acrobatico cosa ci serve per avere un buon livello di psychological safety innanzitutto definire con chiarezza ruolo e responsabilità questo ci permette di non brancolare nel buio perché se io non so qual è il mio ruolo quali sono le mie responsabilità dove sono i miei limiti inizio a spostarmi e quando mi sposto in tutta buona fede sia mia che di chi me lo dice mi viene detto sì ma lì non dovevi arrivare perché non è una tua non è un tuo compito sicuramente questo può diventare un problema perché poi se non so dove devo fermarmi e magari inizio a prendere delle strade sbagliate inizio a prendere più rimproveri che non che in un ambiente psicologica safety sono visti come un momento nel quale è crescere tutti insieme però crescere come il topolino a suon di maziate insomma magari poi si cambia aria perché non è magari si fa tutto quello che è della psicologica safety ma in realtà non siamo veramente psicologica se garantire il rispetto abbiamo visto che è una delle due basi trust e rispetto sono alla base l'interdipendenza quindi sui processi non ci deve essere nessun silos e non ci deve essere il massimo esperto di quel microservizio lì senza il quale voglio tutto perché altrimenti nel momento in cui non ci sono dei problemi su quel servizio lì se è solo lui che se ne occupa ci sarà un bel problema ci sarà un silos da andare a investigare quindi poi i problemi se la persona deputata a quel servizio è in ferie ricadranno su tutti gli altri membri favorire momenti di creatività di condivisione e proprio anche di pensiero laterale nel quale si fanno delle cose che non sono le solite attività sul lavoro ad esempio noi in codice plastico abbiamo il blog al quale siamo tutti invitati a contribuire e che ci permettono diciamo anche di investigare temi che non sono diciamo quello che facciamo tutti i giorni ma sono anche temi che diciamo sempre inerenti alla nostra vita aziendale alla nostra vita plastica come si dice sul blog ma che sono diciamo qualcosa di esterno che ci permette appunto di scoprire cose nuove di imparare oppure le tech review ogni settimana noi facciamo dedichiamo un'ora a discutere di casi affrontati durante la settimana a portare al team problemi che abbiamo e chiedere diciamo al team aiuto e un supporto per diciamo magari prendere delle decisioni oppure condividere gioie e dolori durante la vita di un progetto porre domande e dare feedback nel modo corretto porre l'abbiamo imparato da cinzia carroll porre la domanda chiedendo la soluzione spesso porta le persone a dire beh non te lo dico se tu sei responsabile di questa attività quindi prendila tu trovala tu la soluzione invece chiedere quali possono essere in modo aperto i problemi e quindi che soluzioni daremmo qual è il nostro punto di vista quindi senza dare un bias è una cosa molto importante dire e che ne dici di sviluppare quel microservizio in dotnet che è sicuramente l'ecosistema più evoluto moderno e performante che esiste attualmente nel mondo della programmazione che ne dici oh ma libero di scegliere il linguaggio che vuoi e l'hai già detto te però di scegliere il dotnet quindi attenzione a come si pongono le domande e a come si danno feedback cioè dire caspita è l'ennesimo microservizio che rilasci e dopo il rilascio va in errore per carità può essere anche vero però magari contestualizzando il feedback in modo diverso e magari rendendolo un pochino più legato a dei numeri sicuramente il feedback ha un altro valore quindi dire il mio punto di vista il problema che si è verificato e quali sono state le ripercussioni e tenere sempre presente che il mio feedback è la metà del punto di vista del problema quindi io ti do il mio feedback e poi devo ascoltare la tua risposta e da questo scambio da questa comunicazione si cerca di risolvere il problema e non non è l'ennesimo microservizio che rilasci in modo errato che ne dici di darti al front end però magari magari anche no diciamo cerchiamo di capire se magari ci sono dei problemi dare merito a chi si assume dei rischi rischi calcolati però questo non significa che ah vabbè è un clima psicologico al safety e allora posso fare un po' quello che voglio posso prendermi tutti i rischi che voglio assolutamente no i rischi devono essere calcolati e se a fronte di una decisione anche rischiosa vengono comunque andiamo incontro a un fallimento e prendiamone atto è una lesson learn abbiamo imparato che questa via non si deve percorrere tutto il team ha imparato come dicevo prima nel caso dei medici il reparto ospedaliero faceva degli errori e dava un farmaco sbagliato sbagliato un errore una complicanza non considerata prima naturalmente il rischio era stato calcolato prima però condividendo questo errore diciamo di chi si è assunto il rischio di comunque cercare di curare questa patologia condividendo diciamo il fallimento tutti hanno imparato che in questo modo questa patologia non la si gestisce e bisogna dare merito a chi si assume dei rischi e a chi diciamo ammette diciamo l'errore diverso è prendere rischi invece non calcolati perché questo porta sicuramente a fallimenti magari preventivabili come nel caso abbiamo visto prima del dieselgate piuttosto che del manomettere il software del degli aerei per raggiungere degli obiettivi e nel caso di team multiraziali multiculturali la gestione dell'uncertainty avoidance cos'è culture differenti gestiscono il rischio in modo differente se noi abbiamo in un team un americano e un russo però sto estremizzando e facendo tutta l'erbo fashion non sto dicendo che fa così però magari il russo è un po più rigido un po più schematico rispetto all'americano e gestisce il rischio in modo diverso già magari se ragioniamo a livello europeo già magari un inglese e un tedesco magari gestiscono il rischio in modo diverso e quindi aspettarsi che persone con culture differenti gestiscono il rischio allo stesso modo e si assumano dei rischi può essere un errore quindi mettiamo in campo il fatto che non tutti vogliamo gestire e tolleriamo eventualmente fallimenti allo stesso modo queste sette sono domande che possono essere un po' l'esame di coscienza per capire se il nostro team è psicological safety e possono servire a noi stessi che possiamo essere il team leader possiamo essere un manager di un team o possiamo essere membri di un team che però abbiamo qualche malessere e vogliamo dare un nome a questo malessere prima di scappare sostanzialmente quindi queste sono le sette domande che vengono proposte sul libro di emi edmonson ne trovate dieci ne trovate cinque ne trovate ventisette trovate lo schema trovate l'app trovate il google sheet però la summa teologica di quello che diciamo bisogna considerare sono queste sette domande all'interno di un team se faccio un errore l'errore viene ti viene puntato il dito addosso se fai un errore qualcuno ti dice eh caspita però è la sessantismo volta che fai l'errore Gianni che ci può stare anche caspita però magari se arrivo a fare sessanta errori di fila magari cerchiamo di capire prima se c'è qualche problema sotto sono un programmatore prestato allo sviluppo magari sono un grandissimo centometrista ad esempio quindi cerchiamo di capire se effettivamente gli errori seriali che vengono fatti sono veramente un problema mio e soprattutto perché viene puntato il dito addosso a questa persona se fa errore invece di dargli una mano a non farne quindi a risolvere i propri problemi ad esempio aiutando questa persona a formarsi su determinati argomenti sono libero sono autorizzato a portare nel team problemi e difficoltà si lega un po al caso precedente quindi mi sento libero di dire ragazzi sono veramente in ritardo non non ce la facciamo a raggiungere la scadenza ho la possibilità di farlo serenamente o ogni volta che dico ragazzi sono in ritardo vedo qualcuno all'interno del team che fa così perché dice caspita è la terza volta questo qua è in ritardo arriva sempre in ritardo oppure lo si dice sempre all'ultimo minuto cioè due ore prima del rilascio in produzione non ho ancora finito la mia carta quindi c'è libertà nel dire che ci sono problemi all'interno del team le persone all'interno del team vengono in qualche modo isolate per qualsiasi motivo ad esempio io sono del mio team sono l'unico che utilizza windows e a volte tutti gli altri utilizzano linux e sono palesemente isolato vengo costantemente deriso perché utilizzo windows naturalmente lo fanno lo facciamo tutti in mondo scherzoso però magari ci sono casi nei quali il fatto che uno conosca una tecnologia piuttosto che un'altra o motivi ben più seri possono dare poi problemi nel mio team è sicuro prendere dei rischi se mi assumo dei rischi è sicuro ogni volta che poi mi assumo dei rischi mi viene fatto notare il fatto che ho assunto dei rischi che siamo arrivati in ritardo perché ho assunto dei rischi nel mio team posso liberamente alzare la mano e chiedere aiuto? nel mio team c'è qualcuno o io stesso nel mio team o io stesso in qualche modo miniamo lo sforzo che viene fatto dai colleghi o qualcuno mina lo sforzo che faccio io magari come detto prima per ricompense personali o di team qualcuno cerca diciamo di prevalere per raggiungere il proprio obiettivo che al momento non è l'obiettivo di rilasciare la data di scadenza ma è di prendere l'aumento che era stato concordato in base o il benefit che era stato concordato in base al premio quindi occhio anche a dare dei premi come vengono dati e le mie skill e i miei talenti vengono valorizzati e utilizzati indipendentemente che siano i miei talenti per i quali sono stati assunto cioè assumo il più grande sviluppatore python poi mi accorvo che non è poi così bravo fare lo sviluppatore python caspita ma ho un'energia a fare non so quando vengono fatti dei meeting che è veramente trascinante queste skill di questa persona le valorizzo e cerco di utilizzarle in qualche modo e cerco di collocarle nella giusta casella oppure dico caspita però pensavo fosse più bravo cioè venuto qua come il massimo esperto di python e invece alla fine ce ne sono tanti più bravi di lui quindi queste sette domande che dobbiamo farci se siamo dei team leader se siamo dei manager ma se siamo all'interno di un team facciamole perché magari certi malesseri che abbiamo sono dovuti al fatto che effettivamente uno o più di questi questi punti poi non si verifichi se noi riusciamo a creare un ambiente che è psicological safety o psicological safety abbiamo quella scintilla che permette veramente di estrarre il massimo valore dalle metodologie agile a questo punto avremo una metodologia nella quale avremo dei ritmi delle cerimonie dei documenti a seconda della della metodologia che scegliamo sia essa xp sia ad essa scrum sia kanban agile pm quella che vogliamo però avremo veramente quell'innesco per la collaboratività che è ciò che viene proprio richiesto dal manifesto agile a questo punto avremo delle retrospettive che saranno delle vere retrospettive nelle quali escono i problemi e le retrospettive le faremo vorremo farle perché vedremo che da queste retrospettive uscirà qualcosa che ci permetterà di essere migliori e appunto migliorare sempre come ripeto nel caso della nostra pattuglia acrobatico vedete questo talk è veramente la somma teologica di tutta la fuffa mondiale praticamente qui c'è dentro la fuffa della agile la fuffa del dialogo con le persone proprio c'è dentro tutto qua però a volte capita di trovarci in situazioni nei quali sentiamo di avere un malessere magari questo malessere lo imputiamo al nostro comportamento e in realtà magari ci troviamo in un contesto che non è quello che dovrebbe essere poi c'è chi lo toglierà meglio chi lo toglierà peggio queste poi sono reazioni personali alla mancanza o alla presenza di psicologica safe quindi se riscriviamo la user story in formato positivo diciamo come team noi abbiamo bisogno di psicologica safe per poter essere veramente un team agile questa è una serie di link che poi troverete diciamo quando vorrete riguardare questa serata vi segnalo se vi può interessare il sito psicsafety.co.uk mediante il quale ci si può scrivere una newsletter settimanale e nella newsletter sono presenti veramente tantissimi articoli non solo legati allo sviluppo ma veramente legati a tantissimi settori questo mese o il mese scorso si parlavano molto dell'ambito medicale nel quale veramente si capisce come questo fattore sia molto importante vengono anche portati esempi di aziende che prima non lo erano e che poi dopo aver applicato e hanno sperimentato dei seri problemi e la trasformazione digitale non ha portato solo all'adozione di una metodologia agile ma proprio anche all'adozione di un ambiente quindi a instaurare un ambiente che sia psicologica safe e nel caso di Artsly il quinto di questi link nella cultura aziendale viene proprio detto che se tu ti decidi di mandare la tua candidatura a questa azienda l'azienda applica una cultura psicologica safe quindi sai già prima che se farai parte di questa azienda se farai parte di questo team dovrai rispettare questo e non dovrai sgomitare per essere il più bravo all'interno del team per prendere il benefit questo è tutto vi invito a leggere il nostro blog blog ricco di articoli tecnici articoli più fuffosi articoli di user experience quindi veramente un articolo eterogeneo nel quale noi cerchiamo veramente di dare sfogo a questo pensiero laterale quindi a studiare a indagare e a diciamo darci degli obiettivi appunto per poter contribuire alla vita plastica aziendale grazie a tutti se avete qualcosa qualche domanda qualche chiarimento oppure condividere la vostra esperienza visto che siamo in pochi quindi il contesto è ideale possiamo farlo subito potete scrivermi potete trovarmi sui vari social molto volentieri se si innesca un flusso nel quale anch'io che come ho detto mi sto approcciando a questo tema posso imparare anche dalla vostra esperienza grazie mille grazie mille a te Gianni molto interessante e quindi vediamo se qualcuno coglie l'invito di Zanni apriete pure il microfono che vogliamo sentire un po' non con le viti eh anche per essere un casino adesso non ci sono anche più le viti tutto incollato grazie Zanni da parte di Alberto Turelli e di Pezzotti Maria Chiara grazie a voi allora io posso dire la mia diciamo ho letto alcuni libri recentemente in cui ritrovo anche se non era esplicitato il concetto di psychological safety ritrovo alcune tematiche per esempio nel libro di Netflix quello del CEO cioè il secondo CEO quello che è attualmente in carica appunto tutto discorso anche sui feedback sul diciamo sentirsi tranquilli nel dare una fare una critica nel ricevere una critica è una cosa che effettivamente ho ritrovato quindi in un contesto come quello di Netflix dove è lecito sbagliare è lecito provarci è lecito far crescere tutti ritrovo molte di queste tematiche mentre ho letto un altro libro sto al fine di leggere un altro libro recentemente quello di la storia di Uber e ti rendi conto invece come seppure un'azienda che ha avuto diciamo una crescita pazzesca negli ultimi dieci anni ha avuto all'interno delle grossissime difficoltà che in un certo periodo più e più volte diciamo l'hanno portata ha delle crisi interne che poi hanno avuto diciamo varie declinazioni e il CEO che ha dovuto lasciare eccetera e quindi è un argomento importante e come hai detto tu sono cose che magari possono sembrare note però quando tante volte ad un insieme di concetti gli viene attribuito un nome ti permette poi di identificarlo e di essere conscio nella fase di applicazione di questi concetti adesso diciamo sto un po' elaborando quello che ho recepito e cercando di farlo anche mio per vedere se poi dopo ci ritroviamo in quello che sto dicendo ecco e un altro esempio per esempio in un libro di Simon Sinek anche lui diceva come per esempio quell'esempio lì che tu hai fatto sulle miniere ha avuto un esempio simile sull'ambito delle piattaforme petrolifere su un contesto appunto simile dove venivano coinvolti gli operai per far capire come mai i team funzionavano o non funzionavano bene e si è venuti praticamente a scoprire che quando c'era la fiducia tra i compagni di team e tra ovviamente i compagni di team e il proprio leader si lavorava in un contesto migliore possono sembrare appunto come si dice cose ovvie però non sempre nel proprio team si lavora bene nella propria team si lavora bene e riuscire ad applicare credo queste cioè conoscere innanzitutto questa teoria e riuscire poi ad applicare penso che possa dare benefici a tutti ti cito anch'io due casi che poi adesso che gli ho dato un nome mi diciamo mi sono tornati alla mente nel libro Li Startup si parla tantissimo di ammettere cioè di parti provo vedo come va fallisco ok riparto il concetto è sicuramente molto più legato alla percezione del fallimento del mondo diciamo anglosassone perché se pensiamo un po' alla realtà italiana il concetto di fallimento è spesso recepito più come un'onta che come uno ah che bello ho fallito cioè magari che ha fallito poi ha la stigmatità di colui che ha fallito però essere avere un ambiente psychological safety nel quale io porto la mia idea di questa che vogliamo fare mi accorgo veramente che i dati sono sbagliati non devo per forza dire che i dati sono giusti cercando nella 0,016% quella cosa che mi fa dire no 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 guardate che è un grandissimo successo ok avere un ambiente nel quale poter dire le cose veramente non funzionano non funzionano bene e il progetto che stiamo interprendendo è fallimentare ce lo stiamo accorgendo fin da subito è un grandissimo vantaggio un'altra cosa che non so se sia vero o meno ma ci sono veramente articoli molto discordanti e mi permetto di fare un nome perché tanto ormai è il nome che è sulla breccia dell'onda per tutti è il caso di Spotify nel quale Spotify viene portata ad esempio per qualsiasi organizzazione aziendale e ambito enterprise come l'unico modo per poter gestire un modo efficiente per gestire team ma dall'altro ci sono tantissimi articoli di tantissimi ex dipendenti che criticano fortemente il modello Spotify e che dicono sostanzialmente che il modello Spotify non esiste perché poi in Spotify le cose non funzionano così naturalmente la verità sarà nel mezzo tra quello che dice Spotify e quello che dice quello che va via perché è arrabbiato eccetera quindi su questo qua sicuramente la verità sarà nel mezzo però la cosa che mi fa pensare è che sicuramente se qualcuno sta dicendo delle bugie stiamo attenti perché quello che Amy Edmanson chiama avoidance failure è proprio questo cioè cerchiamo di capire subito che il dire bugie per cercare di avvalorare le nostre tesi può andare bene per un po' per un periodo sicuramente ma quando poi veniamo smascherati l'effetto dirompente cioè il danno sulla nostra immagine sulla nostra vita può essere anche grosso quindi attenzione diciamo a dire che le cose vanno per forza bene e non avere il coraggio di dire che invece le cose vanno male o assumerle diciamo in modo critico certo esatto ho lasciato i riferimenti un link con i libri appunto che abbiamo citato lì in start up quello che ha citato Gianni e gli altri due che ho citato io in gioco infinito è l'unica regola che non ci sono regole sì appunto proprio nel mondo nel mondo start up il libro di Eric Reis nell'esempio anzi l'obiettivo è di fail fast cioè se una cosa non funziona scopriamolo subito perché altrimenti sono soldi a tempo che si stanno buttando via quindi essere diciamo sinceri e non aver paura di sbagliare è il primo modo per riuscire poi a trovare la soluzione più adatta o risolvere diciamo i problemi ok qualcun altro vuole contribuire con qualche spunto non siate timidi non diamo nessun voto però chi prende la parola vince una sottoscrizione per il site senza partecipare alla code challenge ok dai ok e niente vi ringraziamo tutti vi metto ancora un attimo la slide tanto che magari pensate a qualcosa con il prossimo appuntamento non so se si vede non penso ok come dicevamo prima il prossimo appuntamento sarà in presenza in CSMT software solution for remote health monitoring con Stefano Ghilini di Antares Vision il 15 dicembre alle ore 18 quindi se riuscite a passare facciamo alcuni aperitivi insieme finalmente ci possiamo rincontrare e ovviamente per chi è di Brescia più facile bene accetto chi viene comunque anche da fuori e niente grazie ancora Gianni allora grazie a voi e saluto a tutti buona serata ciao buona serata a tutti alla prossima grazie ancora ciao Gianni grazie a tutti